Un posto al sole, anticipazioni febbraio, Damiano la vita, Marina e Ferri turbati. Le anticipazioni di un posto al sole del mese di febbraio rivelano che non mancheranno i colpi di scena e i momenti di tensione. Occhi puntati in primi su Damiano, che nel corso dei prossimi episodi si ritroverà a rischiare la vita sul lavoro. Situazione non facile anche per Marina Giordano e Roberto Ferri, la coppia sarà turbata e qualcosa potrebbe mettere in bilico il loro atteso matrimonio. Le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole, che saranno trasmesse durante il mese di febbraio, rivelano che Damiano tornerà a occuparsi della salvaguardia di Viola e suo figlio Antonio. Il poliziotto avrà il compito di proteggere la moglie di Nicotere e proprio durante una delle uscite che faranno insieme si ritroverà a rischiare seriamente la vita. Damiano verrà coinvolto in una sparatoria che si svolgerà in pieno giorno nel centro storico di Napoli. Una situazione che finirà per compromettere la vita del poliziotto. Cosa succederà? Si salverà oppure no? Non è finita qui, perché le anticipazioni sulle puntate di Un posto al sole del mese di febbraio rivelano che si tornerà a parlare anche delle vicende della coppia composta da Marina e Roberto Ferri. La Dark Lady di Palazzo Paladini rimetterà piede in città dopo essere stata a Londra per accompagnare sua figlia Elena e la nipote Alice. Di conseguenza Marina sarà pronta a riprendere in mano le redini della sua vita e del suo legame con Ferri. Dato che i due avranno intenzione di convolare a nozze al più presto. Dopo vari tira e molla, Marina e Roberto hanno deciso di unirsi ufficialmente in matrimonio e celebrare così il loro grande amore. Eppure, proprio nel corso delle puntate della sua popera che saranno trasmesse a febbraio, ci sarà qualcosa che finirà perturbare l'armonia e la serenità della coppia. I due non saranno felici e spensierati, dato che qualcuno o qualcosa potrebbe compromettere la loro storia d'amore e magari anche il tanto atteso matrimonio. Cosa succederà? Marina e Ferri riusciranno a superare l'ennesimo ostacolo e ad avere la meglio anche questa volta oppure dovranno confrontarsi con una nuova sciagura che si abbatterà sul loro amore? Spazio anche alle vicende di Nico, per il giovane avvocato arriverà il momento di riaprire la vecchia ferita legata alla morte della sua amata Susanna. Dato che si tornerà a parlare del processo che vede coinvolto Lello Valsano. Dato che si tornerà a parlare del processo che vede coinvolto Lello Valsano. . Grazie.